benvenuti a questo secondo appuntamento con la libreria del prof non siete riusciti a fare la pasquetta fuori come tutti noi non è un problema grazie a luigi meneghello vi porterò a malo in provincia di vicenza e di fatti in questo nuovo intervento parlerò di un libro libera nostra malo veramente particolare all'interno del panorama editoriale italiano libera nostra malo è un libro a sua insaputa spartiacque esce nel 1963 insieme a un altro libro a sua insaputa spartiacque marco valdo ditalo calvino perché spartiacque perché a loro insaputa segnano un confine una presa di coscienza tra l'italia contadina che stava finendo e si stava spegnendo e l'italia industriale qualche anno dopo nel 75 paolo pasolini sul correre della sera pensando appunto a quegli anni inizio anni sessanta scriverà dalla famosa intervista in cui dirà che appunto a inizio anni sessanta l'italia stava passando dall'essere il paese delle lucere al paese delle ciminiere e qualche anno dopo nel 68 luigi tenco giusto per variare ma rimanere sul pezzo con la canzone ciao amore ciao scriveva appunto come si fossimo passati da il paese coi carri nei campi agli aerei nel cielo ma chi era luigi meneghello e cos'era libera nostra malo luigi meneghello è stato un docente è un docente di letteratura anche in università inglese è stato uno scrittore un grande pensatore è un partigiano un partigiano nelle squadre d'azione e vicentino ebbe parte della sua vita la trascorsa appunto in inghilterra e libera nostra malo cos'è è un romanzo si nel 63 uscì con la sottoscritto romanzo ma non è un romanzo è un saggio di storia no non è un saggio di storia benché parli della di un comune veneto appunto malo in provincia di vicenza comune di origine del nostro luigi meneghello ma non è un libro di storia e cos'è dunque libera nostra malo libera nostra malo è un libro che si definisce a mano a mano il lettore procede nella sua lettura di cosa parla libera nostra malo libera nostra malo è uno di quei libri come l'orlando furioso riassumibili come beautiful nel senso che una trama ce l'ha ma raccontata significa perdersi in un garbuglio di una serie di eventi perché tutto quello che troviamo raccontato libera nostra malo cioè la storia di questa comunità veneta tra gli anni 20 e gli anni 60 del novecento è un fiorire continuo di aneddoti che nascono come un flusso di coscienza la joys flusso di coscienza alimentato da aneddoti e aneddoti che sono alimentati da parole ebbene sì perché in libera nostra malo gli aneddoti le parole hanno uguale importanza noi dobbiamo immaginare libera nostra malo come quelle faglie sapete quelli sotto la terra le zone di congiuntura tra i vari continenti si chiamano faglie dove c'è un continuo attrito ecco da questo continuo attrito libera nostra malo prende la sua sostanza e che attrito è innanzitutto linguistico italiano contro inglese italiano contro latino e italiano contro veneto cioè tutte le lingue che fanno parte della vita di meneghello si scontrano e si scontrano anche gli aneddoti che fanno parte della vita di meneghello perché nella vita di meneghello c'è la microstoria la vita della provincia che si scontra con la grande storia ecco dunque che la maestra diventa questo organismo possente come la torre campanaria ecco dunque che lo zio che era un bravissimo meccanico è ricordato anche perché durante le manovre militari si era andato a schiantare su sua maestà vittorio emanuele terzo ed è per questo che in paese dicevano che re si facesse sempre rappresentare da una parte le medaglie perché l'altra parte dell'orecchio gliel'aveva rovinata lo zio di meneghello oppure dio dio stesso la religione è molto presente nel testo di meneghello libera non sa malo ma dio che dio è è un dio è un vecchio anziano che sovrasta all'interno della vecchia parrocchiale onnipotente ma non troppo e ovunque personaggi mitologici gli zii i parenti le persone del paese di meneghello come eroi numerici sempre troppo sempre eccessivi troppo forti troppo bravi troppo deboli troppo ubriachi sempre e comunque troppo e lo stesso titolo libera non sa malo sarebbe stato il titolo ideale stando a schopenhauer nell'arte di diventare uno scrittore perché riesce a trarre insieme una formula di preghiera libera non sa malo lo ricordo è la versione latina di libera ci del mare del padre nostro la preghiera della nostra delle popolazioni di religione cristiana cattolica ma gioca anche sulla parola malo malo appunto il paesino e provincia vicenza ultima emanazione di questo libera non sa malo è stata la citazione di luciano ligabua ma questa è un'altra storia la domanda diventa dunque perché leggere libera non sa malo leggere libera non sa malo per il piacere linguistico perché ognuno di noi ha si porta dietro l'italiano altre lingue e il dialetto o i dialetti anche se arriva da altre nazioni eccoci e perché leggere libera non sa malo leggera lì non sa malo perché ognuno di noi ha avuto lo zio beppe la zia maria e ognuno di noi ha avuto una sua piccola storia ognuno di voi ha avuto una sua piccola patria grazie